La vittoria sul Matelica di una settimana fa ha dato un'iniezione di fiducia importante alla miternina di Vincenzino Angelone, chiamata a risollevarsi dai bassi fondi della classifica a caccia dell'ennesima impresa salvezza in Serie D. I tre punti ottenuti a Scoppito contro la terza forza del campionato hanno permesso ai giallorossi Scoppitani di staccare di due punti l'ultima posizione, occupata dal Giulianova. Ma ora è in arrivo una prova ancora più importante. Domenica gli Scoppitani saranno di scena a Pesaro in un vero e proprio scontro salvezza. I marchigiani non stanno attraversando un buon momento e sono reduci dalla sconfitta sul campo della Re Canatese. All'andata il 20 settembre 2015 al comunale di Scoppito finì 2-0 per la Vispesaro grazie alle reti di Evacuo e Floris che confezionarono il primo blitz esterno stagionale. L'auspicio della Miternina è di poter pareggiare i conti nel match di ritorno, tre punti in palio che a fine stagione potrebbero rivelarsi determinanti.